Il Consiglio Comunale Il Consiglio Comunale Un saluto a tutti voi, ben ritrovati con il notiziario di Alghero su CatalanTV. Apriamo il nostro telegiornale parlando della seduta di ieri del Consiglio Comunale nella quale si è parlato del futuro dell'aeroporto e della privatizzazione della società di gestione. Oltre all'assessore regionale dei trasporti Deiana che ha sottolineato quanto sia necessaria la privatizzazione, hanno partecipato anche i consiglieri regionali del territorio, Marco Tedde e Luigi Ilotto, i vertici della Sogeal e alcuni rappresentanti dei sindacati. Una sola seduta del Consiglio Comunale probabilmente non sarebbe servita per rispondere a tanti, troppi interrogativi sul futuro dell'aeroporto di Alghero. Ieri ci ha approvato l'assessore regionale dei trasporti Massimo Deiana che ha innanzitutto sottolineato come la privatizzazione sia inevitabile. Il delegato della Giunta Pigliaro ha rimarcato come sia delicata la situazione della Sogeal, soggetta a quattro ricapitalizzazioni negli ultimi anni. Una quinta era impossibile, anche perché sarebbe stata vista dall'Unione Europea come aiuto di Stato. Il resto è storia recente, con il bilancio 2013 approvato con mesi di ritardo e il successivo e necessario aumento di capitale con conseguente messa in vendita del 72% delle quote azionarie, per la quale verrà predisposto un bando internazionale. Dopo l'intervento del direttore generale della Sogeal, Mario Peralda, la parola è passata ai rappresentanti politici, regionali e comunali e sindacalisti. Tutti hanno espresso preoccupazione, soprattutto per gli attuali livelli occupazionali che dovranno essere garantiti anche con il nuovo azionista di maggioranza. Marco Ted, così come il sindaco a inizio seduta, ha rimarcato l'errore fatto negli anni di aver messo in concorrenza i tre aeroporti sardi. Altro nodo cruciale, problemi infrastrutturali che hanno spesso penalizzato l'aeroporto algherese a discapito di altri. Sulla richiesta avanzata dei rappresentanti di tutte le forze politiche, da Bruno stesso, su una partecipazione degli enti locali e anche con qualche quota minoritaria, Deiana ha lasciato aperto uno spiraglio. Il 28% rimarrà alla regione, ma una parte di queste quote potrebbe essere cedute ai comuni interessati, al viore in primis. Di certo non ci saranno più, come è accaduto in passato, contributi a cascata come quelli co-marketing previsti nella legge 10 del 2010, che hanno garantito sì la crescita del nostro scalo, ma oggetto di procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea, che ha bloccato di recente il bando sulla continuità territoriale 2. Ma ascoltiamo adesso alcuni dei passaggi più importanti dell'intervento che c'è stato appunto ieri in consiglio dell'assessore regionale trasporti, Massimo Deiana. L'aeroporto di Alghero è uno scalo che senza, e questo è un dato storico, e non c'è nessuna valutazione di valore in tutto ciò, è un aeroporto che senza un certo tipo di intervento, è un aeroporto che non dico che si sarebbe assestato sui 300-350 mila movimenti ante interventi, ma diciamo che si potrebbe assestare più o meno intorno alla metà di quello che è adesso. Quindi l'aeroporto di Alghero e la centralità dell'aeroporto di Alghero non sono minimamente in discussione. Attenzione, guardate che sembra una banalità, una cosa è l'aeroporto, una cosa è la società di gestione. Voglio dire, la società di gestione sta all'aeroporto come un accidente gestionale di fronte a un bene, ma mentre l'aeroporto è unico, è quello e quello rimane, le società di gestione nella storia possono esserci, non possono esserci, possono cambiare, possono morire, ne possono essere ricostituite dalle altre. Chiaro? Nessuno vuole questo. Ma non confondiamo, perché mi sono sentito dire così muore l'aeroporto di Alghero, non c'entra niente, l'aeroporto di Alghero c'è e rimane. La società di gestione, come ha ricordato il sindaco, è una società di gestione che è stata storicamente iperassistente. Negli ultimi due lustri ha avuto 4 aumenti di capitale, l'ultimo lo ha ricordato. In questo momento la procedura è in una fase delicatissima, non siamo ancora ovviamente nella fase della due diligence, ma non appena verrà pubblicato il bando ovviamente i conti della società saranno disponibili presso una data room per tutti i soggetti che ovviamente saranno interessati a presentare una loro offerta. Voglio rassicurare il sindaco che mi ha posto un quesito importante, che capisco, e cioè quello di consentire agli enti locali di essere partecipi del processo. La regione non abbandona la società di gestione di Alghero e benché meno abbandona l'aeroporto di Alghero, nel senso che quegli investimenti per quanto riguarda il traffico e la pubblicità ci sono e di questi sarà interessato l'aeroporto di Alghero. La regione non abbandona gli investimenti infrastrutturali sull'aeroporto di Alghero, la regione ritiene che l'aeroporto di Alghero sia un asset fondamentale nella gestione del trasporto aereo da e per la Sardegna. Questi sono i messaggi positivi che noi dobbiamo trasmettere sul mercato per far sì che ovviamente ci sia un numero importante di player interessati, più ce ne sono, più siamo in grado di scegliere il migliore, più ce ne sono e più è possibile che avremmo delle eccellenze. Ascoltiamo alcune interviste realizzate prima della seduta del Consiglio Comunale nell'ordine con il Presidente del Consiglio Matteo Ted, il Sindaco Mario Bruno e il Deputato del Movimento 5 Stelle Nicola Bianchi, componente della Commissione Trasporti alla Camera. E' una tragedia dal punto di vista economico il fatto che questo aeroporto possa chiudere o anche solo possa essere depotenziato. Oggi abbiamo invitato qui l'assessore regionale, consiglieri regionali, europarlamentari, sindacalisti, insomma tutti quei soggetti che a vario titolo possono intervenire, possono dare un contributo perché questa fase di transizione venga posta in essere nel miglior modo possibile soprattutto statistico. Allora noi non solo non vogliamo perdere rotte i vettori ma vogliamo aumentare questa capacità di attrazione, lo vogliamo fare garantendo una regia pubblica. Il privato deve comunque darci delle garanzie e noi in primis lo chiediamo alla Regione. Oggi è presente l'assessore regionale dei trasporti, a lui chiediamo innanzitutto un piano regionale dei trasporti che assegni una missione a ciascuno degli scari sardi, compreso Alghero, e che nell'operazione di privatizzazione salvaguarda innanzitutto i livelli occupazionali della società di gestione dell'aeroporto e che sulla base anche delle indicazioni date a suo tempo nel momento in cui la Regione ha acquisito tutte le quote della società con l'esclusione di fatto degli enti locali, il Comune di Alghero assuma un ruolo di rilievo nella partecipazione pubblica, sia all'interno del Consiglio di amministrazione, sia anche attraverso una quota simbolica all'interno della società. Noi oggi esporremo, avanzeremo diverse proposte, oltre che segnaleremo diverse critiche che già da tempo i consiglieri comunali ad Alghero evidenziano e siamo qua proprio per questo. Ecco, tra le critiche che ci sono riguardanti appunto il gruppo del Movimento 5 Stelle di Alghero e anche la richiesta di dimissioni per l'attuale management della SUGEL? Beh, mi sembra sotto palese, sotto gli occhi di tutti, che è una gestione carente sotto tutti i punti di vista, non abbiamo ancora un piano industriale serio, non abbiamo una gestione seria del personale, quindi da questo punto di vista non si può che chiedere le dimissioni, mi sembra una cosa quasi scontata. E sempre restando sul Consiglio Comunale di ieri, in apertura di seduta c'è stato spazio anche per una piccola polemica politica da parte di Forza Italia nei confronti della maggioranza con i consiglieri azzurri che hanno parlato di un grave atto di irresponsabilità. Nonostante l'importanza delle tematiche trattate in Consiglio, ancora una volta l'appello del Presidente non è stato in grado di garantire il numero legale, attaccato il gruppo consigliere di Forza Italia, rivolgendosi ovviamente alla maggioranza. Legalità garantita con atto di responsabilità dai consiglieri dell'opposizione. Il Sindaco Bruno, chiudono i consiglieri forzisti, ha rimediato una figura non edificante alla presenza dell'assessore regionale dei trasporti e delle tante autorità invitate a partecipare alla riunione del Consiglio. E ora chiudiamo quest'ampia pagina dedicata al Consiglio Comunale di ieri sull'aeroporto, parlando adesso di un trasporto sanitario effettuato dall'aeronautica militare. Un paziente traumatizzato è stato trasferito ieri dal Ghero a Bologna con un velivolo del 31esimo stormo. Asentiamo. Trasporto sanitario dall'aeroporto militare di Alghero per un ragazzo di 22 anni originario di Valle Doria. Il giovane è stato trasferito con urgenza dal distaccamento aeroportuale dell'aeronautica militare algherese all'aeroporto di Bologna con un Airbus A319J del 31esimo stormo di Ciampino. Il giovane è rimasto vittima di un grave incidente stradale ai primi di febbraio e seguito del quale era ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell'ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. Il suo trasferimento a Bologna con velivolo dell'aeronautica militare per il successivo ricovero al reparto di rianimazione dell'istituto di riabilitazione di Monte Catone a Imola si è reso necessario per l'impossibilità di utilizzo di vettori civili a causa delle gravi lesioni alla colonna vertebrale subite dal paziente a seguito dell'incidente. Il velivolo è arrivato all'aeroporto militare di Alghero intorno alle 10 e ha atteso l'arrivo dell'autoambulanza che è giunta in aeroporto alle 10.45. Il giovane traumatizzato è stato caricato a bordo del velivolo con l'ambulift fornito dalla SOGEAL, società di gestione dell'aeroporto di Alghero ed è poi decollato alle 11 con destinazione Bologna-Borgo Panigale dove il personale dell'istituto di riabilitazione imolesi attendeva il paziente. Il distaccamento aeroportuale dell'aeronautica militare di Alghero è lo scalo utilizzato per i voli sanitari per tutto il nord Sardegna in quanto vicino alle principali strutture ospedaliere del territorio. Torniamo invece adesso su una questione molto attuale riguardante il Dipartimento di Architettura di Alghero. Intanto questo pomeriggio circa 180 studenti saranno a Cagliari per manifestare davanti alla sede del Consiglio regionale. Ma il Sindaco Mario Bruno ha scritto a tutti i consiglieri regionali appunto dicendo architettura è un punto fermo per lo sviluppo della Sardegna. Sentiamo. Conosco le dinamiche delle manovre di bilancio e gli equilibri che si devono mantenere ma il mio appello nasce da un'esigenza irrinunciabile, lo sblocco delle risorse da cui dipende il futuro di architettura. Il Sindaco di Alghero Mario Bruno si rivolge direttamente e indistintamente a tutti i consiglieri regionali impegnati in questi giorni nell'approvazione della manovra finanziaria sottolineando come sarebbe necessaria una norma che garantisse la certezza di fondi così da evitare ripetersi ogni anno dell'incognita sul futuro. Come noto è infatti tale dipartimento pur non essendo localizzato nella sede di Ateneo, unico caso in Sardegna, non gode dei finanziamenti dell'università diffusa alla pari di altri centri e non ha ottenuto alcun contributo regionale per l'anno 2014. Non di meno, precise il Sindaco, la collocazione a Alghero comporta costi aggiuntivi e certamente maggiori dovuti ai problemi logistici, alla carenza di personale e di servizi, costi che assorbono pressoché interamente le risorse ordinarie impedendo di destinare somme più consistenti alla didattica e al mantenimento della qualità della ricerca e di un ambiente culturale internazionale. Ha raggiunto in ambito didattico risultati notevoli alla base dei riconoscimenti ottenuti dal Dipartimento, tra cui quello della classifica Censis Repubblica che ha visto architettura sempre ai vertici in Italia, quattro volte prima, due volte seconda. Il Sindaco ricorda anche come il Dipartimento di Architettura, Desenio e Urbanistica di Alghero rappresenta una straordinaria risorsa che ha assunto un ruolo primario nello sviluppo economico e nella crescita culturale dell'intero nord-ovest della Sardegna. Il rapporto si è rinsaldato con un recente accordo che punta a rendere stabile la collaborazione attraverso impegni reciproci, atti a favorire lo sviluppo, in relazione ai temi della qualità e sostenibilità architettonica e urbana, della pianificazione urbanistica e ambientale, delle politiche della casa, delle politiche turistiche. Il Sindaco di Alghero chiede a tutti i consiglieri regionali la necessità di sostenere nella legge finanziaria in discussione gli emendamenti che riguardano il Dipartimento Universitario con sede ad Alghero. Senza un sostegno costante da parte della Regione varrebbero poco anche gli sforzi compiuti dal Comune nel mettere a disposizione del Dipartimento di Architettura spazi prestigiosi e adeguati come una vera e propria eccellenza sarda merita a chiuso. E ora ci lasciamo per un piccolo break pubblicitario, tra poco. Eccoci in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Sabato sera il Teatro Civico ha ospitato il terzo memorial dedicato a Pino Multinedu. La serata in ricordo dello scomparso Pascaro a Unama è stato un successo, un momento per apprezzare le voci e le canzoni del panorama musicale algherese. Il memorial Pino Multinedu sarà trasmesso sabato 28 febbraio alle 21 su CatalanTV. Un teatro civico pieno ha fatto da cornice la terza edizione del concerto Memorial dedicato a Pino Multinedu. Il noto artista algherese conosciuto con il soprannome dello Pascaro a Unama, mancato il 30 aprile 2013, rappresenta un pezzo di storia importante per la canzone algherese. Sul palco del Civico, sabato sera, di fronte alla famiglia, un pubblico di cari amici e amanti della canzone algherese, si sono alternati diversi cantanti che hanno così voluto omaggiare il signor Multinedu in una serata piena di ricordi e belle canzoni. Franco e Mario Mulas, Cristian Soggia, Rossella Madarese, Milena e Tore Langella, Berto Gavini, La Cural, Alghetta e Ramia e naturalmente Anna Maria Multinedu, figlia di Pino. Sono state Carmen Tartaglione, nipote di Multinedu e Pinuccia Secchi a presentare la serata. I cantanti si sono alternati proponendo un ricco repertorio accompagnati dalle note degli strumenti di quattro musicisti, Giuseppe Manca, Riccardo Moni, Piero Soggiu e Pino Solinas e dal mandolino di Gino Zucca. Durante la serata è stato inoltre consegnato un assegno con il ricavato della manifestazione come fondo benefico indirizzato al polisoccorso di Alghero, ritirato dal presidente Peppino Masala. Un memory al tanto apprezzato quanto partecipato, quello è il ricordo di Pino Multinedu, che nel Pasca Roa Unamà ha dato la possibilità al pubblico a presente in teatro di poter godere della canzone algherese, quella che lui stesso tanto amava e cantava. E il cinema algherese sbarca a Perpignan. Domani alle 19 nella casa della Generalitat del Comune Catalano sarà proiettato il documentario su Alghero dal titolo L'Udia che l'Uspecius ha una scumanzata a Pasca. Di tutti i territori in cui si parla catalano, il più curioso è senza dubbio Alghero. Nella nostra città la lingua catalana è presente dal XIV secolo quando fu ripopolata dai catalani stessi dopo la guerra vinta dalla Corona contro Genova. Anche se oggi la trasmissione familiare di questa lingua è diminuita parecchio, è ancora presente ad Alghero tanto nei discorsi delle persone quanto nella toponomastica della città. Il catalano che si parla ha subito l'influenza dell'italiano e del sardo ma non pone nessun grande problema di comprensione a un catalano parlante di Perpignan o di Barcellona. Per questo motivo, al fine di conoscere meglio Alghero, la casa della Generalitat presenterà un documentario eccezionale sulla città. Realizzato in catalano algherese dal titolo L'Udia anche l'Uspecius ha una scumanzata a Pasca, il giorno che i pesci iniziarono a pescare. La proiezione del documentario avrà luogo in presenza dei suoi realizzatori ma anche del delegato della Generalitat de Catalunia ad Alghero, Joan Elias Adel. Domani, mercoledì 25 febbraio alle ore 19, alla casa della Generalitat, carré della Fusteria 1 a Perpignan. L'Avis Alghero in collaborazione con l'Istituto Alberghiero ha organizzato una raccolta di sangue. Domani, mercoledì 25 febbraio, dalle 8 alle 12, presso la sede dell'Istituto Scolastico in Piazza Sulis, sarà presente l'autoemoteca con l'equipe medica dell'Avis provinciale a disposizione di chiunque volesse donare. E ora passiamo allo sport, vittoria rimandata per la Mercedes Basket che nella quarta giornata della pull retrocessione di A2 femminile ha perso nettamente a Milano 90 a 64. Che non sarebbe stato facile, la Mercedes lo aveva già messo in conto. A Milano le Biancazzurre, prive ancora di Gagliano e soprattutto a Sanchez, sono incappate nella terza sconfitta in altre tante partite giocate. Troppo forti le avversarie che domenica hanno potuto contare anche sulla rientrante Gottardi. Già dopo i primi dieci minuti il passivo è pesantissimo, un meno 24 che la Mercedes riesce a ridurre nel secondo parziale con Zanetti, Spiga e Boi. Si va al meno 17 per la seconda parte del match con gli algheresi che provano a riavvicinarsi ulteriormente trascinate soprattutto da Zellini. Piccola rimonta che viene vanificata dai canestri di Gottardi che regala un nuovo allungo a Milano. Nella Mercedes ci prova Petrova, anche lei non ha il meglio della condizione a rendere meno pesante il passivo, ma le padroni di casa chiudono in scioltezza sino al 90-64 finale. La Mercedes dovrà ora giocarsela con le due dirette concorrenti, Salerno e Virtus Cagliari. Il primo match è proprio contro le campane, sabato pomeriggio al Palacorbia. Sempre parlando di basket, più di 70 mini-atlete tra i 7 e gli 8 anni in rappresentanza delle più importanti scuole di mini-basket della provincia di Sassari hanno movimentato il Palamura di Porto Torres per il primo Libellule Day. Hanno partecipato il Centro MB Olmedo con gli istruttori Giuseppe Durante e Arianna Melis, Demone Sozzieri con gli istruttori Chiara Bandino, Balai Basket Porto Torres con gli istruttori Sara Capellini, Pallacanestro Alghero 1986 con gli istruttori Francesca Pinna e Valeria Falchi, Bluestar Alghero con gli istruttori Andrea Carosi e Andrew Scordamaglia, Basket 90 Sassari con gli istruttori Francesca Vagnoni, MB Nulvi con gli istruttori Camilla Barbone e Ilaria Capece, oltre a 13 istruttori mini-basket e diversi dirigenti, societari e più di 400 genitori. Il responsabile provinciale mini-basket Antonello Muroni nel ringraziare gli staff tecnici delle società per la fattiva collaborazione ha rivolto ai mini-atleti e a tutti i partecipanti parole di entusiasmo sia per il modo con cui si è svolta l'intera manifestazione sia per il positivo messaggio di valore sociale e sportivo che è riuscita a trasmettere. Con questa notizia si chiude l'edizione odierna del nostro telegiornale, ora spazio e le previsioni del tempo per domani. Grazie e arrivederci.